E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti e condividete questo video con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete che voglio che arrivi alla più ampia platea possibile. Seguitemi sui social, seguite Una Vita Spumata Viola su Instagram, seguite Viola Price, guardate i video fatti ieri, non solo il commento all'aparta ma il video prima in cui abbiamo parlato di calcio e mercato della Fiorentina, il punto sulla Serie A e stasera ci guardiamo Inter Sheriff e poi la commento. Allora un piccolo inciso sui guanti, non è che li porto per fare il Nico Belli, c'è da chi è d'inverno mi viene un problema alle mani, quindi devo evitare gli sbalzi di temperatura in certi periodi, quindi devo tenere questi guanti, farò i video così, insomma la prendiamo come una cosa nostra che gasa e la teniamo così. Allora detto questo, parlo della partita di ieri diciamo, parlo anche della situazione spiacevole che si è creata, faccio un po' il barbi raperonzolo sfoghi e devastanze, per proposito se avete una figlia a Natale andate sul sito della Mattel e ordinate barbi sfoghi e devastanze, vi arriverà a casa una confezione con il sottoscritto di plastica dentro con il dito alzato, capito che fa le sue intemerate, a Natale barbi raperonzolo sfoghi e devastanze. Detto questo, partiamo dal post parta, gli insulti sotto la curva, le dichiarazioni di italiano. Allora io non sarei, detto molto diciamo macchiavellisticamente, non sarei andato sotto la curva a fine partita perché onestamente la partita di ieri è stata abbastanza fecale, ci sono rimasto molto deluso anch'io devo dire perché non mi sarei aspettato una partita del genere, capisco la buona volontà di andare a salutare i tifosi che hanno fatto tanti chilometri sotto la curva, ma avrei evitato per, diciamo con un minimo di razionalità, avrei evitato soprattutto considerando la situazione di Vlaovic. Detto questo, ora la situazione si può suddividere in due, cioè se si vuole far prediligere la rabbia, il nervoso e la delusione per il discorso del rinnovo o se si pensa al bene della squadra, ai risultati che può ottenere e a quello che può fare. Se si vuole seguire la seconda strada, non credo che questa cosa degli insulti, della stigmatizzazione a Vlaovic sia una roba che faccia l'interesse della Fiorentina, onestamente, ieri mi pare l'abbiano detto anche Venuti e Biraghi, poiché sono andati a portare via il giocatore. Poi, saltando questo tipo di parentesi, vengo alle parole di Italiano che sono state abbastanza contestate anche a ragione, perché ho sentito Italiano che ha detto abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto il controllo della situazione, abbiamo avuto il controllo della gara, non è così. Se io leggo le parole di Italiano non sono d'accordo, ma anche lì ci sta che un allenatore, purtroppo, perché anche nelle conferenze stampa spesso senti dire frasi fatte, ma sono cose dette per non mettere alla berlina i problemi visti ieri. Credo e spero, perché sennò bisogna essere dei ciechi, che anche Italiano abbia visto che ieri abbiamo giocato male, ieri è stata la peggiore prestazione della Fiorentina stagionale a mani basse, non però, come ho sentito, sembrava la Fiorentina dello scorso anno. No, secondo me è andata male per motivi diversi. Ciò non toglie comunque che sia stata una prestazione obrobriosa e ciò non toglie comunque meriti all'avversario che il Venezia abbia fatto una signora partita. Perché ci sono giocatori che hanno fatto una partita clamorosa, penso allo stesso Aps, penso a Busio, a Ramu stesso, Johnson fin tanto che è stato in campo, e Buei ha fatto un'ottima partita, Svoboda, la coppia dei centrali, Romero ha già impattato benissimo, quindi onore anche all'avversario. Ciò non toglie che noi abbiamo fatto abbastanza cagare, ma non è stata una partita in cui tu puoi andare a criticare i singoli, e vi dico anche di più. Ieri ho letto delle cose su Sottil da parte di alcuni tifosi, una minoranza va detto fortunatamente, ma che non stanno né in cielo né in terra. Cioè significa non aver visto la partita, o non aver visto neanche i commenti fatti durante la partita stessa, e per esempio le pagelle giuste, che sono state fatte, cito a titolo di esempio, su fiorentina.it e su tutto il mercato web, in cui giustamente si dice Sottil al di là di un'espulsione assolutamente discutibile, tra l'altro anche ieri su Rai 2 nel post partita hanno detto che non c'era, c'era Pieri, e ha detto che non c'era assolutamente quell'espulsione lì, non abbiamo perso per quello, è solo per valutare la prestazione del giocatore. Però Sottil, ieri ha detto a di tutti, è stato il meno peggio della fiorentina, quello più propositivo, quello più pericoloso, quello che cercava di saltare all'uomo, quello che ha fatto vedere le cose migliori, fin tanto che è stato in campo. Poi, che cosa vuol dire? Sbaglia l'ultimo passaggio, sbaglia l'ultima scelta, da parte che non ha avuto neanche grandi occasioni per farla l'ultima scelta, perché la fiorentina è stata poco incisiva ieri, ma bisogna anche vedere che scelte ha a disposizione, bisogna vedere cosa fanno i compagni, se seguono l'azione. Anche Biraghi ieri, per esempio, neanche a me è piaciuto, ha fatto una partita sotto tono, specialmente in fase offensiva, ma non è che abbiamo perso per Biraghi. Anche là mi sembra sempre che si diano dei giudizi sulla scorta delle simpatie e delle antipatie. Allora, con tutto il bene del mondo, vi chiedo, ma se si critica la partita di Sottili il primo tempo, o la partita di Sottili in generale ieri? Di Caleon, cosa bisogna dire? Del sempre lodato Bonaventura, cosa bisogna dire? Di Duncan, cosa bisogna dire? Di Igor, celebratissimo. Con questo non sto dicendo che ce l'ho con i giocatori, e perché poi vengo a fare un discorso generale sulla squadra, del celebratissimo Igor. Cosa c'è da dire? Guardate che Igor, personalmente sono anch'io curioso di vederlo in campo, non va assolutamente penalizzato, marginalizzato, ma ero curioso anch'io di vederlo giocare in campo con continuità. Se guardiamo le prestazioni in cui ha giocato quest'anno, sono state più le cose negative che quelle positive, ieri compreso. Se devo fare una valutazione per quanto parziale il 19 di ottobre, dico se devo fare una scelta tutta la vita Martínez Quarta con Milenkovic. Anche lui, celebrato a prescindere per il fisico, giocatore che non andava assolutamente celebrato, ma che andava aspettato, che deve verificarsi, che deve valutarsi. Un altro, sempre ipercelebrato, al di là che ieri comunque ha fatto bene a fare quello che ha fatto dopo la partita, venuti. Se ascolti il tifo, sembra di parlare di Maicon. Ci rendiamo conto che c'è un allenatore che fa giocare Benassi Terzino quando dovrebbe giocare lui e ci facciamo due domande? Lo stesso celebratissimo, vi ripeto, come si chiama? Non celebratissimo, insomma, Odriozola, che anche lui è arrivato tra mille fanfare e via dicendo. Va valutato anche lui, e parliamone della partita che ha fatto ieri. Ha fatto un intervento che era anche da arancione, se trovi l'arbitro bastardo, che ci si impunta. Ma ieri è stata una partita persa da squadra. Non ha senso soffermarsi sui singoli. Lo stesso Vlaovic, che ha fatto una partita sicuramente insufficiente, perché poteva metterci più impegno, poteva scendere di più, aveva una marcatura pesante ed efficace di due giocatori, ma deve anche lui darsi da fare, perché lo conoscono e funzionerà così in Serie A. Ma quante occasioni ha avuto Vlaovic? Cioè, non è che ieri di Vlaovic, puoi dire, ha giocato di merda perché ha avuto 6, 7, 8 palle da gol nitide e non ne ha messa dentro una. Non gli arrivava una palla. E questo anche per gli sbagli di Italiano, che ieri Italiano, per esempio, è caduto in pieno in una cosa da principianti, secondo me, che è quell'equivoco di Amarbat. L'inganno della cadrega di casa fiorentina, se avete visto tre uomini, la gamba, il ruolo di Amarbat. Io non so chi cazzo, nella fiorentina, ha fatto credere a qualcuno che Amarbat è un regista. Ma ci si era veramente i look sbagliati nel pensare che Amarbat fosse... Amarbat non è un regista, ok? E come pensare, non lo so, che Vlaovic sia un terzino? Non è il suo ruolo. Amarbat deve giocare, perché per me deve giocare, perché è forte e nel suo ruolo è forte, a fianco a uno tra Torreira, che è stato preso per quello nella mia logica e nella logica razionale, Torreira deve essere stato preso, perché può fare il regista ed è un regista. Amarbat deve giocare a fianco di Torreira, che è stato preso per quello, a fianco di Pulgar, che è uno che ha delle doti, può avere un po' alla Brozovic, diciamo frammista e forse anche un po' meno, ma comunque può avere delle doti di impostazione. Ma Amarbat non è un regista. Io quando leggo Gioca Amarbat in catena di regia, mi esplodono i coglioni, signori, perché che cazzo vuol dire? Ma non è così! Il centrocampo a tre deve essere fatto da un regista e noi abbiamo o Torreira o Pulgar, che possono fare quello, un mastino, che può essere o Amarbat ed Ancan e scelgo tutta la vita Amarbat, e un incursore che deve puntare la porta e fare il falso trequartista alla Barella, che è preferibilmente Castrovilli, per ragioni di età e esplosività e via dicendo, nel caso Bonaventura. Questa è l'economia del nostro centrocampo a tre e anche lì, italiano, nel reparto centrocampo, tanta, tanta, tanta confusione. Non da oggi, non da ieri, così come non da ieri, a Vlaovic arrivano troppi pochi palloni. E anche sulla scelta degli esterni facciamoci due domande, perché Calleon, che magari potrà rigiocare, che potrà fare delle buone partite, con tutto il buonismo del mondo, ma siamo all'ennesima prestazione impresentabile. È come avere, cioè, veramente, è come avere un palo su cui tu passi la palla e la palla ti arriva indietro. Ma che, anche tatticamente volendo, anche tatticamente parlando, che utilità. Nessuna. Piuttosto fa, ma che sottile, piuttosto faccio giocare saponare. Ma veramente, piuttosto faccio giocare saponare, ok? Ma ieri, vi ripeto, se si sta a parlare dei singoli, si può parlare un quarto d'ora di tutti. Lo stesso Nico González, che comunque è entrato con una lena positiva, con impegno, poi si è svalutato anche lui, perché quando giochi in una squadra che non gira, non giri neanche tu. Anche lui, abbastanza confusionario. ieri veramente, se devo salvare qualcuno, vi dico, salvo Malé, che è entrato bene, per quel poco che ha fatto, perché è entrato anche tardi. Salvo Sottil, salvo Sottile, a parte l'espulsione, che per me non c'era, ma salvo Sottil, per quello che ha fatto vedere, se proprio bisogna essere buoni, posso volendo salvare Benassi, proprio per il rotto della cuffia, basta. Ma perché ieri è mancata tutta la squadra, è mancato il mister che è stato preso e incartato da Zanitti, perché bisogna dire la verità, bisogna dare i meriti anche a Zanitti, che è un ottimo allenatore, è un ottimo allenatore, perché fare quel che sta facendo con una squadra come il Venezia è da ottimi allenatori, da ottimi allenatori. Detto questo, però passo alla parte finale, cioè a parte queste valutazioni fatte sempre sulla simpatia e sull'antipatia, che vanno a cogliere i demeriti dei giocatori che sono magari più sulla breccia della negatività, vedi Vlaovic, o quelli che storicamente devono stare antipatici per qualche motivo e si tralasciano i demeriti, spesso anche grandi, di giocatori che invece sono sempre sotto l'ombrello protettivo delle simpatie, ok? Che ieri spesso hanno fatto pietà, ok? Ieri e non solo ieri, ieri e non solo ieri, che ieri hanno fatto pietà e che anche in altre partite non hanno convinto, per esempio, no? Ma detto questo, adesso non è che bisogna prendere e buttare tutto a mare, prendere e dire fa schifo, perché ieri ho letto molta delusione tra i tifosi, anche un po' eccessiva, secondo me. Un po' eccessiva, perché comunque ci si deve rendere conto che la squadra è reduce da due o tre anni negativi, in cui spesso ti sei ritrovato a salvarti l'ultima giornata, o quasi, con un gioco totalmente diverso. Sono arrivati dei nuovi giocatori, ma altri sono rimasti e devono comunque abituarsi al nuovo gioco. Non è una gran classifica, va detto, perché siamo pari punti con il Bologna, ma è anche vero che è una classifica molto corta. È una squadra che ha fatto un cambio di mentalità importante. A parte ieri, abbiamo anche affrontato grandi squadre, tipo Inter e Napoli, non abbiamo neanche sfigurato, anzi, sebbene mostrando dei limiti, delle cose che vanno giostrate. Sicuramente adesso abbiamo una partita contro il Cagliari che è importantissima e che andrà vinta. E Italiano, attenzione, Italiano ha una settimana molto difficile davanti. Italiano ha una settimana molto difficile perché dovrà da un lato proteggere la squadra e calmare, dall'altro anche gasare e rendersi conto che col Cagliari bisogna vincere, non si può sbagliare. Quindi Italiano ha una settimana davanti che è veramente difficile, probabilmente, anzi, sicuramente la più difficile da quando è a Firenze. Molto delicata perché se col Cagliari non va bene, pareggi, perdi, magari con Vlauvi c'è altri litigi, il pubblico che fischia, casini, cose, discorsi, attenzione, ok? Però non è che adesso bisogna che due settimane fa si lottava per lo scudetto, tutto bello, andiamo di qua e di là in Champions, e adesso fa tutto cagare, siamo tornati all'anno scorso, la squadra fa schifo, troppe montagne russe, critiche anche troppo esagerate, secondo me, critiche troppo esagerate, vi ripeto, sono il primo a essere deluso dalla partita di ieri, ma proprio perché non me l'aspettavo. Partita veramente brutta, veramente al Venezia, ieri con tutti i meriti al Venezia, vi ripeto, e per certi versi mi fa anche piacere perché è una squadra della mia provincia che mi sta simpatica, però ieri ovviamente con tutto il bene del mondo ti favo Fiorentina, ci sono rimasto male anch'io, ci sono rimasto male anch'io, perché non me l'aspettavo, si sono stati demoliti, tatticamente, soprattutto dal Venezia, e non è vero, come dice, come dice Coso, che abbiamo avuto la partita in mano, è stata un'illusione, ma lo sa benissimo anche lui, lo sa benissimo anche lui, perché è stato un possesso sterile, spesso vedevi un Venezia cortissimo, schierato, tu non sapevi cosa fare, e quella è una cosa anche che acquisisci col tempo, abituandoti al tuo sistema di gioco, capendo cosa fare in certi momenti di difficoltà, ci vuole tempo, però ci vuole anche fiducia, voglio dire, io vedo tanto scoramento, tanti tifosi scontenti, attacchi, critica i giocatori, invece, io sarei più moderato, sarei più moderato, sarei, comunque darei fiducia a questo tipo di progetto tecnico che c'è, non è che l'allenatore adesso è diventato uno scemo, anzi, ho visto delle buone cose da parte di italiano in queste giornate, anche buonissime, certo, deve registrarsi anche lui, soprattutto il discorso del centrocampo, discorso degli esterni alti, anche in difesa, io vi dico, vabbè che i terzini sono abbastanza fissi, però sui centrali, da un lato, sono sempre tentato da voler vedere sto Igor in cosa si sostanzia, però diciamo che non mi spiacerebbe definire una volta per tutte quarta titolare, perché lo merita, perché lo merita onestamente, anche se ieri c'era il coso del jet lag, probabilmente, i sudamericani, a noi servono, perché Pulgar è un giocatore che il suo lo fa, Torreira è l'unico regista che hai e l'ha fatto giocare anche per fargli dar confidenza, Gonzales è un po' in calo nelle ultime giornate, ma è l'unico che ha un attimo di cattiveria agonistica, che entra e che devasta, anche per quello che l'hai pagato, ma per quello che ha il suo valore in campo deve assolutamente giocare, quarta, idem, e quindi, ecco, io dico, bisogna essere un po' più un po' più equilibrati, per quello che è il momento, perché è delicato, io non sono d'accordo che questa situazione Vlaovic sia un peso, cioè è un peso se tu la fai essere pesante, se tu esageri il clima, se tu insulti, se tu devasti, io non sono neanche d'accordo con le valute, anche lì, si è passati da un estremo all'altro, sentivi quest'estate, è fenomenale, abbiamo il miglior attaccante della serie A, che anch'io credo sia molto forte come attaccante, anch'io credo sia valido ed è assolutamente un punto fermo della Fiorentina, adesso ne senti parlare, fa schifo, è scarso, un gobbo, deve andarsene, queste sono esagerazioni, sono montagne russe, che fanno il male della Fiorentina in questo momento, che è una squadra anche giovane come idee, come progetto tecnico, come l'ENA, come inerzie e ha bisogno di fiducia e di moderazione da parte del tifo, ha bisogno di supporto, se no vi ripeto, ci si fa del male da soli, ci si fa del male da soli non avendo fiducia, creando un clima ostile, creando una situazione nella quale mille dubbi vengono fuori, abbiamo una classifica che è aperta, abbiamo affrontato tante squadre forti, adesso avremo un calendario che sicuramente avremo da affrontare, manca ancora la Lazio, sicuramente, mancherà il Milan, ne abbiamo ancora qualcuna, ma abbiamo anche tante partite in cui possiamo andare a vincere, in cui possiamo recuperare, in cui si può andare a dir la nostra in tutti i campi, serve fiducia e serve supporto, serve fiducia e serve supporto, e soprattutto smettiamola di valutare le partite dei singoli non guardando le partite, non guardando quello che è il vero contributo della gente e non mettendo tutti sullo stesso piano, perché quando, per esempio, Buonaventura, che sapete che è un giocatore che a me non ha entusiasmo, ma quando ha fatto le prime partite bene, lo si è detto ed è giusto dirlo, lo si è detto ed è giusto dirlo, così come quando gioca male è giusto dirlo ed è giusto dirlo per tutti, Biraghi ieri assolutamente ha giocato male, ma non ha giocato male solo lui sotto ieri, non ha giocato male per me, però bisogna essere coerenti, bisogna essere coerenti sicuramente, ma anche guardarle le partite e dare meriti ed emeriti quando questi ci sono e ieri vi ripeto più che sui singoli bisogna concentrarsi sulla test, quindi l'allenatore cosa ha detto di fare, come ha mandato in campo la squadra e la prestazione generale, che quella è stata il malus, il vul, non credo abbia contato il discorso di Vlaovic, per me non ha contato il discorso di Vlaovic, è stato forse anche un misto di... ho visto anche una squadra supponente a tratti, una squadra poco determinata, una squadra poco famelica che forse pensava che la partita si risolvesse da solo ad una certa, una squadra con un centrocampo che non funzionava perché voi ditemi quante imbucate centrali avete contato della Fiorentina, quante palle al centro, nessuna, perché non c'era un regista, difesa molto alta e con centrali che si sono dimostrati o che si stanno dimostrando poco integrabili o che hanno delle difficoltà a fare questo tipo di gioco qui, per adesso e hai perso, tutto qua. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto e fiducia. Fai d'uscia! Grazie! Grazie! Grazie!